Salve a tutti, io sono RaffanFox e oggi vi porto questa piccola curiosità del doppiaggio di Spiro 2. Ascoltate questo dialogo. Quale luce sfolgora da quella finestra lassù? Quella finestra è finta! Il professore ha detto che avrebbe cercato di aiutarmi a tornare con Giulietta, ma è tanto che non lo vedo. Chiaramente uno si chiede ascoltando questo dialogo come faccio una finestra ad essere finta. Ebbene questo qua è un errore tra virgolette di traduzione, è più colpa di Insomniac che del traduttore italiano, adesso vi spiegherò perché. In inglese dice, that window up their dummy. Purtroppo Insomniac ha scordato di scrivere la virgola prima di Dummy e quindi il traduttore ha pensato che Dummy fosse riferito alla finestra e non a Spiro che effettivamente non può neanche rispondere. Per inteso Dummy può essere sia in caso di una persona scemotto o stupidotto, sia in caso appunto di un oggetto finto. Nella Remastered Activision ha ricordato di mettere la virgola, correggendo di conseguenza anche la traduzione del doppiaggio italiano. Oh, ma quale luce rompe da quella finestra? La finestra è lassù, scioccone! Il professore ha detto che mi avrebbe aiutato a tornare con Giulietta, ma è un pezzo che non lo vedo. Se non conoscevate questa curiosità ragazzi lasciate un commento, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale, che potrei in futuro farne anche altre.